Il più grosso frammento superstite del campanile di San Marco, crollato il 14 luglio 1902, è stato dichiarato di interesse culturale dalla soprintendenza di Venezia. Non solo è l'unico elemento strutturale noto del campanile antico, ma è anche l'unico potenzialmente in grado di fornire preziose informazioni cronologiche sulla sua costruzione. Il riconoscimento del cosiddetto toqueton, conservato da più di un secolo nel giardino di Palazzo Berlendis a dorso duro, suggella le celebrazioni che si sono tenute in città in occasione dei 110 anni dalla ricostruzione di uno dei monumenti più noti di Venezia. A riportarlo sotto i riflettori Vittorio Baroni, che è contattato dagli attuali proprietari del giardino, ha ricostruito anche le vicende di Salvatore Arbib, esploratore, commerciante e collezionista, che nel 1902 rispose all'invito del comune di Venezia a comprare i pezzi più importanti in cambio di un'offerta che avrebbe contribuito alla ricostruzione del monumento. Il pezzo acquistato da Salvatore Arbib allora oggi potrà rivelare molti segreti della storia del vecchio campanile.